Alex Espio, le più compatte, le più evolute. Chi sa scegliere? Scegli il Peugeot 106. Fino al 30 giugno un milione in meno e la prima rata a febbraio 96. Patrick de Gaillardone, in caduta libera, verso il centro della terra. Sector, no limits. Live in life and having fun, sipping on Bacardi rum. La 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 Bacardi rum. Bacardi, the mixable one. Vailant. Tecnoblock Vailant è la caldaia murale a gas. Tecnologia tedesca è un servizio senza problemi. E per chi acquista Vailant, la prima accensione è gratuita. E sottoscrivendo il contratto di manutenzione con Vailant Service, c'è un anno in più di garanzia. La tua casa vale Vailant. La fragola è bella, la pesca è sua sorella. Fruttolo, 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 fruttolo. Vieni lamponi, come son buoni. Vieni a ricocca, saltami in bocca. Fruttolo, 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 fruttolo. Se ti piace la frutta, mangiatela tutta. Ehi, ma c'è una novità nel banco gelati. Fruttolo gelato. Fruttolo gelato. E com'è? Buonissimo. C'è. Wingo Summer, l'unica piccola monovolume con tetto full space. La grande promozione ESSO continua a stupire. Oggi, con il cambio dell'olio, i gestori regalano subito una delle quattro grandi opere di Agostini. Informatevi, alla ESSO c'è subito un regalo ad ogni cambio d'olio. Let's go! Mercoledì, in Milan, vice campione d'Europa, vola in Oriente per l'Opel Asian Tour. Cinque sfide con le più importanti formazioni d'Asia, nelle più grandi città dell'estremo Oriente. Let's go! Preceduto alle 23.15 dallo speciale calciomercato, Opel Asian Tour, Wanzu Apollo Club, Milan. Mercoledì alle 23.30 su Italia 1.